I vostri allenamenti saranno ad un livello più alto con il treadmill adventure 2 plus. Un sistema di ammortizzazione migliorato, una tavola per correre allargata e velocità fino a 18 km orari renderanno voi e i vostri allenamenti più forti. I 10 programmi preimpostati includono allenamenti target che vi permettono di impostare i vostri obiettivi di tempo, distanza e calorie aiutandovi così a vedere i risultati. Sia che camminiate, corriate o facciate jogging, il motore a potenza continua pari a 2 cavalli manterrà il treadmill fluido e silenzioso a qualsiasi velocità. Il sistema di ammortizzazione Perfect Flex di Horizon fornisce il giusto comfort e sostegno. Sarà piacevole muoversi su una superficie di corsa di dimensioni pari a 51 x 140 cm. Al termine del vostro allenamento il sistema Control & Drop esclusiva Horizon rende facile la chiusura del treadmill offrendovi una soluzione compatta per un collocamento salvaspazio. Si riapre poi lentamente e agevolmente grazie ai pistoni idraulici donandovi un altro allenamento in massima sicurezza.